Ok. Dicevo poco fa che quello che festeggiamo è l'anniversario della nascita di un libro, un libro che ha un titolo particolare, anche se semplicissimo, cioè un libro che si intitola Bergamo Città. E questa sera cercheremo di comprendere e lo faremo con i due soci accademici che sono seduti a questo tavolo, Gianmaria Labà e Piervaleriano Angelini, cercheremo di capire la scelta, il perché di quel titolo che apparentemente è così semplice invece ci fa interrogare sul senso profondo di queste due parole e di queste due parole messe una vicino all'altra. Dicevo che la nascita di un libro per l'Ateneo è sempre stata una festa, l'abbiamo detto in tutte le occasioni nelle quali noi presentiamo i nostri lavori, ma quello che è importante è veramente insieme ragionare sul senso delle produzioni che noi proponiamo. Questo libro non fu prodotto per l'Ateneo e questa storia vi verrà raccontata, tuttavia quando la presenza di Vanni Zanella e di Graziella Colmuto, sua moglie, che sono stati soci dell'Ateneo per moltissimo tempo, soci molto attivi, molto rispettosi dell'istituzione, molto collaborativi, tuttavia proprio la loro presenza ci aveva dato anche tanti stimoli e tante indicazioni per seguire quello che era il loro esempio, il loro amore per la storia della città, del territorio, dei segni sulla città e nel territorio, della bellezza dell'arte, della fusione tra arte, territorio e città. L'altro motivo che ci ha indotto a parlare di questo libro è stato il fatto che sia Graziella che Vanni sono mancati e quindi noi come Ateneo ci siamo posti il problema di ricordarli, ma non solo di ricordarli come persone ma di ricordarli come produttori di cultura e abbiamo avuto anche un aiuto molto importante, costante, per cui ringrazio la Maria Luisa Colmuto, la sorella di Graziella che ci sta seguendo da Genova, abbiamo avuto il suo aiuto costante per comprendere la ricchezza del patrimonio che i due soci hanno lasciato, la loro biblioteca, le loro biblioteche possiamo dire, i loro materiali di studio, il loro archivio che sono ancora qui a Bergamo. E quindi noi abbiamo interrogato questo archivio proprio con noi, parlo del dottor Labà e del dottore Angelini, era presente, è sempre stata presente anche il nostro segretario generale Monica Resmini. Ci siamo interrogati su quello che stavamo vedendo, su quello che abbiamo consultato, sulla ricchezza di ciò che quello che vedevamo e consultavamo poteva dare alla città tutta. Quindi questo è il percorso che faremo in qualche modo, ricordando il lavoro che le due intelligenze avevano compiuto anche molto in sintonia, perché erano così affini anche nel loro interesse, le ricorderemo, ma soprattutto cercheremo di comprendere i passi che loro hanno compiuto proprio nella ricerca che noi vorremmo continuare a fare, che ci auguriamo si possa continuare a fare e che è confluita sia sulla storia del territorio che sulla storia dei personaggi, sulla storia di quei personaggi che loro amavano ed è per questo quindi che abbiamo anche il tema, il tema del, di Quarenghi, del grande architetto Quarenghi. Quindi adesso do la parola all'architetto. Sì? C'è qualcuno che sta parlando? Cercheremo di stare vicino ai microfoni perché mi sembra di capire che ci sia qualche problema. Magari accendiamo anche quell'altro. Condivido adesso lo schermo solo un attimo. Sì, Monica? Non ti sentiamo? Scusate, ci devono essere dei problemi. Ci sono problemi di audio, ti sentiamo attratti. Non so cosa fare. Adesso mi avvicino a questa cosa qua, ci sono i microfoni accesi. Anna Maria invece da Torino mi dice audio perfetto. Allora, Monica, vediamo chi si lamenta di più. Anche Marghi che dice che ci sente. Abbiamo molta fiducia, scusatemi. Passo adesso comunque la telecamera e cerco di inquadrare il architetto Labà che è qui con noi e condivido lo schermo quando lui mi dirà di iniziare con la condivisione. Subito. Grazie. Grazie troppo. Grazie. 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 Andiamo con la memoria. Anche Bergamo tra gli anni 60 e 70 femmeva di contestazione giovanile per lasciare il passo poi agli anni di piombo e aprirsi nel 77 all'ultima fiammata contestativa, ma nel segno del riflusso allora si diceva così. Potrà essere anche solo un caso, ma il libro che qui ricordiamo esce nel 1971 e ha la sua seconda edizione proprio nel 77. Sono questi gli anni della mia formazione universitaria e di avvio alla professione, per vari aspetti relazionabili all'architetto Zanella, che ho sempre ritenuto un maestro ed in pectore il mio maestro. E quindi con una certa emotività, potete intenderlo, mi accingo a dire qualcosa di lui e di questo libro. Ma chiediamoci subito perché Zanella si impegnò tanto in quest'opera. In fin dei conti è una semplice guida. E' lui a dircelo e da subito, addirittura dalla seconda di copertina che io vorrei vedere, magari siamo andati un po' in atto, vorrei mostrarvela, se è possibile la prima immagine. In cui dice, in cui dice, siamo andati un po' in atto, ma fa niente, fa niente. Ecco, non è importante, era solo richiamavo un po' il testo, quindi che sta qui dentro, quindi non ha molto importanza. In cui dice che cosa, in questa seconda di copertina, ci dice già quasi tutto, dice cos'è questo libro? È un invito a guardare la città come una modellazione della storia. E questa è la prima sorpresa, che fa diverso Bergamo città da altre guide, spesso solo una sequela di monumenti. Noi siamo andati, non siamo andati al di là della copertina e già l'autore, mi sembra, dice tutto, anche forse indirettamente, ma di se stesso. Il titolo è il titolo, che è il titolo del libro in alto, lo conoscete, semplicemente non può essere che più icastico di così. Bergamo città, proprio la sintesi della sintesi, è in basso solo, come di rigore, l'editore e l'anno di edizione. Nella seconda di copertina, come vi dicevo, solo quel piccolo testo che ho citato e la parola guida. Il lettore è avvertito, mi sembra, non si deve aspettare il superfluo, c'è l'esenziale in questo volume. E poi il suo nome, scritto in piccolo, testo di Vanni Zanella, solo nel retro del frontespizio. Siamo abituati a oggi a titoli covitali degli autori dei libri in copertina. Il suo è nel retro del frontespizio e in piccolo. Lì lo vedete. Sono questi piccoli particolari, ma che ci dicono tanto. Il sommario specifica, magari lo mostriamo un po' più ampio. No, lo vedono grande, lo vedono grande. Sì, il sommario specifica ovviamente di più, valorizza il concetto di guida come itinerario. Oggi tutto è un itinerario, per i più raffinati un cammino. Ecco, sviluppando il tema in dodici capitoli. articolando la città in tre parti, che titola città alta, la città fuori delle mura e poi edifici sparsi. Sottolineo quest'ultima parte perché è una novità nel concetto di guida a Bergamo. Ma cos'è che rende veramente speciale questo volume? Credo soprattutto tre caratteristiche che vi vorrei mostrare, ma ve le leggo a questo punto. Un primo aspetto, la ricerca dell'oggettività, meglio della verità. Ogni attribuzione o datazione è verificata con puntiglio, mai lasciata alla tradizione. e soprattutto senza paura, diciamo così, di far male a Bergamo. Anche dove deve sfumare frettolose, radicate e improbabili attribuzioni. Lui è oggettivo, è scientifico in questo senso. Due, il far sì che l'ambiente, il fatto urbanistico, più che architettonico, il fatto urbanistico, è questo a farci da tramite nella comprensione dei monumenti e dell'architettura in generale. Legge la città per la sua urbanistica prima che per i suoi monumenti. Terzo, aspetto che credo fondamentale, è la sua abilità di misurare le parole. Sono rarissimi superlativi perché tutto è relativo e non c'è mai nel testo esibizione di sapere, nessuna saccenteria. L'esposizione fila via così, quasi come se fosse un racconto. Tre aspetti che dicono di lui. Esce la sua formazione culturale di architetto ed urbanista, ma col bisogno di tradurre la città con il mezzo della storia. Questo, dobbiamo leggere questo nel suo scrivere. Si manifesta pieno anche la sua vena didattica. Era un docente nato che ha operato in un periodo molto difficile della scuola italiana, gli anni 60 e 70, ciò nonostante si spese per ben quattro istituti superiori dirigendo due licei. C'avevo una foto un po' simpatica, che mi piace farvi vedere se la ritroviamo, perché è lui, ecco, eccola qui, è lui con un gruppo di allieve del liceo artistico, siamo nell'anno 1963, sono le prime maturate, ecco, nella nuova istituzione che lui ha contribuito a fondare, anzi ha fondato, il liceo artistico, siamo in via Salvecchio, nella sede storica del liceo artistico, dove ora c'è l'università, è nel cortile, è attorniato, ecco, dalle maturande o maturate, ecco, e c'è qualche insegnante qui e là, lui al centro, come giovane direttore, ecco, del liceo, dell'istituto. In Bergamo città lui non illustra, né descrive, spiega e sottolinea aspetti chiarificatori più che raccontare di gente, questo è importante, credo, e lo fa con una modalità di scrittura che presuppone un dialogo con il lettore, in questo senso è lui a dare il passo di visita delle cose, da come le descrive. Vanni Zanella in questa guida introduce poi un'interiore valenza del nostro territorio che chiama Edifici senza città. E' un modo arguto ed elegantemente provocatorio di sottolineare che ci sono anche le periferie e che nel bene o nel male costituiscono la terza componente della città e anche necessariamente della sua guida. se c'è un'immagine ma poco importa. Sì, ecco là in cima c'è scritto appunto Edifici senza città che è un bellissimo titolo. Chi dopo di lui infatti scrisse su Bergamo non potrebbe considerare i corpi santi, cioè le periferie del territorio cittadino. Ma c'è di più. Fino a Bergamo città la quasi totalità delle guide era del tipo dell'arrivare a Bergamo che io dico centripete come la guida rossa del Turing che magari vediamo ecco che parte proprio con Bergamo bassa. Cioè nella logica del forestiero verso la città di conseguenza prima viene la città bassa e poi la città alta. Zanella inverte la lettura. La sua è una guida non per viaggiatori ma preeminentemente per residenti. Per i giovani soprattutto dice da qualche parte espone così la città in senso storico geografico parte dal nucleo di città alta passa poi alla città fuori delle mura ed è infine agli edifici sparsi. Magari ecco vedete coinvolge l'intero territorio comunale nell'ambito del volume copre così l'intero territorio insegnando che cose riguardevoli si possono trovare ovunque basta saper guardare e seguire i sentieri della storia. Oggi consideriamo normale questa impostazione ma non era così sul finire degli anni sessanta il successo del libro tra l'altro è spiegabile anche per questo per queste novità che introdotto si può comprendere pure qualche riserva però per esempio Bergamo Arte mostro la copertina la bella rivista non sembra che fosse troppo amante ecco qui la bella rivista del circolo artistico né critica la parte finale del volume perché di inutile appesantimento sono le 50 pagine che lui dedica alle note 50 pagine ecco noi sappiamo quante siano preziose quelle 50 pagine ma allora era sembrato uno sproposito e comprendiamo anche perché nella seconda edizione riveduta quella del 77 che furono edite due edizioni si perda questa ripartizione è mutato il clima culturale politico la guida deve accettare ora un più generico e indistinto fuori le mura infatti se vediamo nel sommario è persa questa terza parte un fuori le mura che raggiunge i limiti del confine comunale perdendo quelle connotazioni però critiche che potevano essere intese come appunti negativi alla conduzione della città ritengo che questo diciamo correzione di rotta sia stata voluta dalla nuova presidenza dell'azienda autonoma di turismo che era il finanziatore ed editore del volume stesso la guida del resto proprio in ragione della sua fortuna una ristampa nello stesso anno di della prima edizione ecco aveva assunto una certa ufficialità che non consentiva accenti problematici sull'attualità è ormai un tomo ufficiale la guida di Bergamo per eccellenza certo ci devono essere state pressioni perché eliminando il primo paragrafo del dodicesimo capitolo dell'edizione del 71 e lasciando inalterata la chiusura del libro in quella del 77 qualcosa chiaramente non funziona e non era da lui non avvertire certe discrasie ricordo di quel periodo che mi chiese se avevo osservazioni da fare per la nuova edizione e mi sembrò preoccupato io non osando entrare nel testo gli esposi in modo gli risposi ecco in modo diciamo alquanto banale devo ammetterlo che avrei aumentato le illustrazioni ecco non volevo mettere mano nel corpo vivo della questione cosa che in effetti fece infatti passavano da 12 a 47 e che avrei indicato nelle piante delle chiese anche le opere di minore importanza suggerimento anche questo che accolse capì però più tardi che un'opera così perfetta correva rischi proprio nelle aggiunte problema che Zanella aveva ben presente e che non intendeva correre tanto è vero che il testo nella nuova edizione viene toccato pochissimo e lo stesso si dica nell'edizione del 1999 preparata ma mai editata ecco nel suo archivio abbiamo trovato proprio un documento che qui mostro in cui presenta l'azienda la diciamo la nuova versione della per la terza edizione ma che non è poi seguito pratico ecco nel chiudere questo mio modestissimo intervento devo rinunciare all'integno che mi ero proposto di non cadere in ricordi troppo personali lo faccio ora e dovete scusarmi perché è cosa abbastanza legata al tema vi dico questo quando il giorno del funerale di Graziella è stata citata prima andai come un'amica a trovare Vanni lo vedemmo in una condizione di estragnazione totale e in una postura di chiusura in e su se stesso usciti l'amica passata la commozione esordì c'è da sperare che il Signore lo chiami a sé mi sorpresi di non aver avuto quell'estrema sensazione essendo tuttavia anche a me sembrato come accartocciato in se stesso usai proprio questo termine accartocciato a distanza di un mese ebbe ragione lei Vanni ci lasciò per sempre non molto tempo dopo visitando il suo artigio mi si parò davanti agli occhi questa scritta che vi mostro Periclo delle Mura era il titolo di una scatola che conteneva punti e materiali per il capitolo primo Tiberio Amocittà funtuffo al cuore perché mi tornarono alla mente alcuni giri fatti insieme lungo le Mura il nostro arborato cerchio per dirla alla D'Annunzio che Vanni descrisse così bene nel libro e che voglio citare dove e come descrive la Fara la zona della Fara possiamo vedere il testo ma se te lo lego dice sulla destra oltre la fila di annosi platani il parapetto lungo il viale del Mura toglie dalla vista i quartieri bassi della città ma lascia scorgere tutta la catena delle prealpi così che ogni parte concorre a produrre un senso insieme di raccolto e di dilatato per lo stacco tra la grazia casalinga di questo ambiente e quelle lontananze azzurrine e per l'eco che questo breve anfiteatro trova nell'arco delle montagne non via in Bergamo alta un altro luogo che ripeta in questa dimensione un analogo effetto qui la città diviene spettacolo a se stessa rincalzo di rimandi favolosi se davvero ai piedi del collede dove sorge la rocca ci fu nel millennio prima di Cristo un insediamento di popolazioni liguri la prima cellula della città ricordai in proposito in quel luogo che ci spiaceva ma senza dircelo calpestare quelle belle grandi foglie gialle accartocciate che l'autunno aveva appena posato a terra il nostro era di conseguenza un camminare a dir poco buffo quasi saltellante come fanno i bambini facevamo finta di niente lui continuava ad accarezzare con lo sguardo i particolari degli edifici e dell'ambiente lungo il periplo delle mura notazioni che così tradusse in Bergamo città e cito riferito via Boccola cosa lega gli elementi di questa sequenza così varia che ci appare lungo la salita probabilmente il contrasto tra la corona riosa delle montagne sulla destra e a sinistra la fitta e alta cortina del nucleo urbano due quinte visive di opposta natura tra loro incompatibili e ciascuna a suo modo misteriosa quasi un camminare sul confine di due mondi quello della natura e quello della storia una contrapposizione formale che figura anche della lunga rivalità tra valligiani e cittadini tra il mondo ignoto e profondo della produzione e quello distaccato degli scambi quella parola periplo mi pare una motafora della sua vita e anche della mia in realtà di tutte le vite è un andare per tornare alla partenza un circo navigato noi stessi la sola differenza è forse il rispetto che nel viaggio portiamo a ciò che sembra ormai niente come accattocciate foglie se torniamo alla prefazione del volume nell'ultimo capoverso di quella semplice paginetta leggiamo e cito questo libro intende offrire una descrizione della parte antica di Bergamo che è la sola che meriti di essere visitata ed è quella per cui si può tentare una lettura che presupponga la città un'opera d'arte collettiva maturata dal tempo la descrizione potrà assumere in qualche caso anche un significato di un recupero dal momento che per le leggi della storia e i modi del nostro vivere collettivo alle città antiche e alle parti antiche delle città non resta molto oltre le parole come rivalsa contro la dimenticanza quando saremo in memory di noi stessi e della nostra circunnavigazione importante sarà se saremo stati dalla parte della contemplazione o dell'indifferenza come Vanni Zanella scrisse che ancora ci insegna in memory di città ecco ecco turbamenti tecnologici che io non riesco assolutamente a governare ringrazio l'architetto Labà per per il percorso che ci ha consegnato e che nasce anche da una visione molto personale molto profonda molto amichevole e quindi davvero una generosa compartecipazione di cui gli sono personalmente grato e adesso la parola va al nostro amico Pier Valeriano Angelini che dovrà anche lui soffrire con me per la condivisione dello schermo quando me lo dirà perché cercheremo di non fare pasticci prego buonasera ringrazio i presenti i collegati il presidente di questa bella occasione che mi permette di provare a raccontarvi una delle grandi passioni di una persona che di passioni culturali e profonde ne ha vissute e praticate parecchie Vanni Zanella ha recato un contributo per quanto riguarda gli studi relativi all'architetto vergamasco Giacomo Quaringhi che penso si possa definire fondativo decisivo e ineludibile questo vale tanto per l'oggi cioè per il momento in cui lui ha prodotto ci ha recato questi suoi contributi come per il futuro tenterò di spiegarvi nel percorrere in maniera sintetica evidentemente il percorso dei suoi studi dei suoi approfondimenti il motivo per cui mi permetto di ritenere corretto quanto vi ho accennato come dicevo inevitabilmente e poi vi sarà occasione come già peraltro vi è stata in altra sede di ripercorrere in maniera più approfondita analitica gli apporti principali da lui recati come quelli che possono sembrare in qualche misura minori e costruire il telaio dell'interazione tra queste suoi successive pubblicazioni questa sera mi concentrerò e cercherò di provare a confrontarmi insieme a voi su quelli che sono gli aspetti caratterizzanti sotto due profili quello che ci fanno scoprire quello che hanno fatto scoprire al mondo degli studi degli appassionati e non solo di Giacomo Quarenghi e quello che a loro volta ci fanno scoprire e capire del suo metodo della sua personalità del suo approccio di quella personalità che l'architetto Labà vi ha già efficacemente descritto nella esattezza nella riservatezza credo di essere in grado di datare in una maniera sufficientemente precisa l'esordio di Giacomo Quarenghi alla ricerca alla scoperta scusate Vanni Zanella alla ricerca alla scoperta di Giacomo Quarenghi questo lo posso dire anche perché corrisponde al mio primo ricordo lucido cosciente insomma non più infantile del mio contatto con lui si data al lavoro di preparazione della grande esposizione la prima grande esposizione quarenghiana che fu fatta per iniziativa della provincia di Bergamo nel 1967 e si tenne nel palazzo della ragione a Bergamo per poi trasferirsi alla fondazione Cini a Venezia nell'isola di San Giorgio Ragione negli anni precedenti Vanni che era membro del comitato scientifico ed esecutivo di questa mostra ha partecipato sia alle missioni in Unione Sovietica per prendere contatto con gli studiosi locali che parallelamente stavano preparando una grande esposizione nel Museo dell'Hermitage che si svolse torno a dire in parallelo non fu condivisa ma le ricerche invece iniziarono a produrre uno scambio tra gli studiosi dei due paesi ecco in quella circostanza Vanni Zanella ebbe dei compiti di rilievo all'interno di questo comitato in primo luogo fu lui a mettere le mani in maniera sistematica per primo nell'enorme massa di disegni presenti alla biblioteca civica Angelo Mai sono più di 750 e si trattava materiali che erano noti ma non erano mai stati analizzati in una maniera moderna diciamo così doveva sistematizzarli selezionarli insieme agli altri che sarebbero entrati a far parte della mostra infatti a lui era affidato era affidata la stesura delle schede di catalogo che sono comparse e a questo punto direi che possiamo procedere con le immagini la prima credo che a livello di test sia già comparsa mi è mi è sembrato e adesso vediamo benissimo ecco adesso viene lanciata questa per cortesia la prima volevo fare in maniera che partisse da prima e procedo per non rubare tempo nella prima immagine ecco qui vedete una piccola selezione di quelli che sono i fontesini le copertine di alcune delle sue principali opere o di opere miscellane che hanno fondamentali contributi da parte sua dicevo 1967 ecco e sì questa bella immagine di cui ringrazio Maria Luisa Colmuto per avermela fatta conoscere ci mostra Vanni Zanella proprio in quel giro d'anni di cui sto parlando ora siamo sulla fine degli anni sessanta procediamo ecco di questa stagione di questo momento così importante per la nascita della sua passione di questo suo vortice quarenghiano in cui molto presto poi in cui molto presto trascinò poi anche la moglie Graziella Colmuto ci ha dato una vivacissima rappresentazione in una conferenza che tenne alla biblioteca Angelo Mai nel 2002 e che è consultabile sul sito integralmente sul sito dell'osservatorio Quarighi ma stavo dicendo compito di Vanni all'interno della predisposizione di quel volume per la mostra del 1967 era la stesura delle schede di catalogo e qui incominciamo di nuovo a selezionare qual è il suo metodo il suo approccio allora al di là di quelli che sono i contenuti estrinseci della scheda quindi individuazione del soggetto definizione dal punto di vista del disegno d'architettura piuttosto che di veduta di cosa si tratti incominciamo a vedere in questa immagine come il disegno rimandi a un sistema di opere e quindi a una storia di queste opere che ha dietro uno spessore e allora spesso si ripetono le citazioni dal fabbriche di geni opere a stampa fatte dal figlio di Giacomo Giulio Quarenghi opere ottocentesche e quindi in qualche misura di nuovo incominciamo a capire come la dimensione della storia diventi per lui fondamentale rispetto alla semplice analisi dell'elemento architettonico lui architetto o addirittura della valutazione della virgolette artisticità più o meno di valore del singolo monumento o semplicemente oggetto architettonico possiamo passare alla successiva che mi serve per introdurre il fatto sempre intorno alle celebrazioni quarendiane del 1967 introdurre il fatto di come Giacomo Quarenghi e di nuovo scusate questo lapsus Vanni Zanella evidentemente c'è in qualche modo quando dicevo che è fondativo decisivo ineludibile in qualche modo mi scuso di questo mio incianto intendo dire in questa sua precisione riservatezza in Italia a se stesso non il desiderio di essere il massimo esegeta di quella singola architettura ma sa di avere le doti di sopraffino e acuto divulgatore che fa sì che quello che diventa un evento spesso un'esposizione di questo calibro rivolta agli specialisti possa fluire all'interno di un pubblico più vasto e allora qui porto ad esempio un articolo sull'eco di Bergamo in cui racconta di quella missione fatta nell'Unione Sovietica e dei rapporti con gli studiosi di quel paese mi piace sottolineare come nel titolo faccia strizzi l'occhio a un'altra delle sue passioni cioè parla di nota felice una delle sue passioni infatti era anche la musica forse a un altro sarebbe venuto in mente un'altra definizione non è un caso a mio modo di vedere che lui titoli in quella maniera non posso dimenticare peraltro in quella serie di cose che curò collateralmente anche per l'iniziativa del 1967 una splendida serie di 12 uscite sulla rivista di Bergamo in cui con traduzioni di contributi fatti allora dagli studiosi sovietici o con altri elementi da lui raccolti mensilmente aggiornava su questa figura che mano a mano prima effettivamente ben poco conosciuta andava passerei alla successiva grazie perché in quello stesso mi riferisco alla pubblicazione che trovate in alto al centro in quello stesso anno 1967 pubblica in Bergamo Tue lettere di Giacomo Quarenti allora vi dirò poi di qual è la dimensione la rilevanza il ruolo rivoluzionario che ha la pubblicazione dell'intestolario quarentiano di Zanella adesso mi piace semplicemente segnalare come nel momento in cui è coinvolto dentro a questo pacchetto di manifestazioni abbia già enucleato l'importanza fondamentale di mettere in mano dei documenti che non sono documenti grafici che sono qualche cosa che ci racconta il foglio ho voluto poi aggiungere a questo a questa piccola micro raccolta di estratti due altri elementi uno perché saltiamo in fasi cronologicamente differenti quello con la copertina rosa che vedete a sinistra non l'ho messo perché sia una cosa riguardi un evento che si è tenuto in Ateneo ma perché trovo rilevante l'operazione che nel proprio contributo lì Vanni Zanella fa siamo nel 294 quindi in qualche misura molto più avanti rispetto alla fase di cui parlavo che cosa decide di scrivere Vanni Zanella dopo 1994 cioè fa il punto su quello che era avvenuto all'interno delle celebrazioni di cui poi vi dirò nell'occasione della ricorrenza del 250esimo della nascita Vanni Zanella indica quelli che sono i tre percorsi che a suo modo di vedere saranno da seguire per le ricerche successive auspicando che non dovessero attendere nuove circostanze centenarie perché avessero modo di avvenire il proseguimento delle ricerche sotto il profilo biografico l'approfondimento dello studio di Giacomo Quarenghi come pittore e disegnatore e non solamente come artitetto un più compiuto e vasto articolato studio della sua produzione architettonica l'ultimo opuscolo di questa immagine in qualche misura si profetico non è forse il termine giusto allora sinteticamente cosa succede è la prima volta che prescindendo da criteri arbitrariamente di qualità ci si accinge a censire il patrimonio relativo a Giacomo Quarenghi presente nella biblioteca Angelo Mai spaziando dalla grande raccolta dei disegni passando ai documenti familiari e personali giungendo a quelle che sono le lettere parti dell'epistolario presenti nella biblioteca ma per arrivare anche a censire ciò che la biblioteca aveva raccolto e conservava della mostra del 1967 storicizzando dunque quell'episodio con una lucidità che nel momento in cui con Giulio Razio Beravi in tempi recenti ci siamo dovuti porre il problema di aggiornare questo avevamo già trovato tracciata la strada dovevamo solo eventualmente aggiungere i materiali che si erano venuti ad assommare da quella data se non sbaglio erano gli anni 70 adesso non dovrei sbagliare così a memoria e eventualmente a correggere le segnature che erano eventualmente andate modificandosi ecco questo per dire è come nella visione di Vanni Zanella questo patrimonio conservato dalla nostra città fosse qualche cosa che andava a tutto campo ad arricchire la conoscenza dell'architetto non solo dal punto di vista delle qualità artistiche e dei materiali conservati provo a passare oltre vediamo Maria se ce la faccio succede che 1982 Vanni Zanella si trovi con la direzione della biblioteca a valutare la possibilità di aumentare la conoscenza di Giacomo Quarenghi dal punto di vista degli studiosi russi in quel momento non erano disponibili traduzioni di nessuna ne esistevano comunque già due precedenti di monografie su Giacomo Quarenghi edite in Russia nessuna delle quali tradotta arriva a avere a disposizione la pubblicazione fatta nel 1977 di una monografia che era stata stesa da Milica Korsh che era diventata specialista di Giacomo Quarenghi e dei suoi disegni per il museo dell'Ermitage Vanni conosceva Milica dai tempi della mostra del 1967 quando Milica era una giovanissima ricercatrice che stava iniziando a studiare il disegno d'architettura erano rimasti in contatto dopo le visite d'allora delle delegazioni bergamasche e propone quindi Vanni Zanella alla biblioteca di far tradurre e pubblicare per la prima volta una biografia una monografia anche biografica su Giacomo Quarenghi in Italia la cosa avviene proprio per interessamento e attivismo di Vanni il quale per questo volume naturalmente scrive una ottima prefazione che permette al lettore italiano di situare una serie di contesti più precisi il contributo che viene offerto tradotto ma mi si lasci dire alla sua maniera con la sua precisione leggera sottile in appendice pubblica uno di quegli strumenti a cui ancora si ricorre quando rapidamente c'è necessità di arrivare al bersaglio di quello di cui si occupa una piccola appendice breve ma assolutamente esaustiva e precisa sulle opere architettoniche di Giacomo Quarenghi a Bacamasca realizzate o non realizzate o documentate semplicemente da fonti forse direte spesso come nel caso dell'architetto di nuovo ecco questo ci racconta di questo suo procedere per un accumulo che è però concluso in sé cioè non è ve lo dico alla prossima puntata è un piccolo mattone con cui inizio a costruire in maniera sistematica agile e infatti ancora fruita fruibile anzi vorrei dire necessaria quest'opera passerei alla successiva perché qui adesso incominciamo a calare carte pesanti probabilmente forzo ma a mio modo di vedere le due cose decisive a cui però si aggiunge tutto questo universo ho cercato già di accennare sono l'inventario dei disegni di Giacomo Quarenghi presenti nella Bergamasca e il volume con l'addenda delle lettere di cui dirò poi nel 1994 viene pubblicata una seconda monografia in questo caso scritta dall'architetto pietroburghese Vladimir Piliarsky che viene edita precedentemente in Russia tradotta è presentata in una bella pubblicazione che ha diverse appendici oltre alla traduzione del contributo della monografia di Piliarsky una di queste probabilmente quella decisiva è l'inventario appunto dei disegni presenti nelle raccolte di Giacomo Quarenghi siamo al 1994 e per la prima volta non solo troviamo individuati in una maniera assolutamente per l'epoca poi dirò precisa tutti i 761 disegni che sono presenti alla biblioteca civica Angelo Mai ma vi aggiunge l'inventario di tutti i più di 200 disegni presenti all'Accademia Carrara degli 80 credo 87 insomma tra gli 80 e i 90 presenti alla fondazione Fontoni di Bergamo ma in più le diecine e diecine che sono presenti nelle raccolte private bergamasche che erano devo dire che le aggiunte da questo inventario per nuove scoperte sono veramente ridottissime è un lavoro di grande sforzo è un lavoro fondamentale per poter offrire ai ricercatori e agli studiosi un panorama completo di quello che la terra dell'architetto conservava quella terra che non ne conserva monumenti architettonici ma possiede un patrimonio grafico assolutamente gigantesco rispetto alle pur vaste collezioni che sono presenti in altri paesi a partire dalla Russia di nuovo come dicevo per il catalogo del 1967 non si tratta semplicemente di riconoscere il soggetto operazione non sempre semplice quando nel 2008 pubblicammo il fondo della MAI in DVD Vanni tornò di nuovo a rivedere l'inventario di quel gruppo di disegni e in qualche caso poté aggiungere quello che era stato scoperto riconosciuto in occasioni successive ma di fatto fu una revisione di un impianto già perfettamente realizzato torno a dire poi qui non si trattava solo del patrimonio della MAI ma di tutto quello che viene qui conservato quindi davvero opera rilevantissima successivamente a distanza di solo di soli quattro anni esce quello che che è davvero a mio modo di vedere forse il più grande monumento del suo edificio edificio guarenghiano proprio ere perennius mi viene da dire ho messo una foto con le due copie che che utilizzo una ormai sformata dai fogliettini inseriti dai segnalibro perché perché è uno strumento fondamentale cioè su cui continuamente chi studia Giacomo Quarenghi deve tornare poi c'è quell'altro invece per più agevole e pratica lettura dove non rischia di andare a parte i fondi questo cosa vuol dire vuol dire che pubblicando nel 1988 queste quattrocento e annotando e analizzando e mettendo in relazione queste quattrocento e passa lettere che arriva in decenni cioè da quando pubblica nel sessantasette le due lettere non si è più fermato semplicemente lavorava sotto traccia e a questo punto però quando esce esce veramente con un'opera monumentale con qualcosa che diventa decisivo e diventa decisivo non solo per chi è un quarenghista diciamo l'uscita di questo improvvisamente ha generato un movimento di conoscenza di approfondimento e un inserimento dell'architetto bergamasco in un contesto di scala quanto meno europea che è stato assolutamente decisivo e perché e qui di nuovo andiamo a trovare quello che è la personalità di Vanni in questo suo metodo d'agire proprio perché lui non si occupa dei monumenti i monumenti fanno parte del paesaggio ma non sono il paesaggio e allora il palazzo di Alessandro o la come posso dire l'accademia delle scienze lungo le Anevà a Pietroburgo certo che sono di Giacomo Quaringhi ma non sono Giacomo Quaringhi lui vuole raccontare qualcos'altro ci vuole raccontare chi è stato capace di fare questi landmarks di una grande capitale europea e ce lo racconta anche attraverso le tribolazioni dell'uomo vorrei dire i problemi fisici i lutti familiari le gioie di un riconoscimento a corte la maniera con cui interagisce con i colleghi le gelosie di cui viene fatto oggetto tutto questo la sua maniera di agire rispetto agli operatori dell'edilizia dell'architettura della decorazione tutto quell'universo che non era ricostruibile se non per pochi lacerti attraverso la semplice rappresentazione grafica dei disegni davvero strumento fondamentale di approfondimento che ha messo non solo Quaringhi al centro di una rete di operatori ma l'ha messo al centro di quello che è un movimento di cultura e di arte in Europa tra settecento e ottocento opera fondamentale passiamo alla prossima perché a questo punto stiamo arrivando a ridosso di un'altra ricorrenza centenaria millenovecentonovantaquattro centocinquantesimo anniversario della scomparsa di Giacomo Quaringhi di nuovo la provincia di Bergamo si attiva per celebrare degnamente questa ricorrenza e Zanella è parte del comitato che si occupa esattamente dell'organizzazione dell'esposizione in palazzo della grande esposizione in palazzo della ragione che finalmente riesce a radunare insieme di segni di raccolte italiane e di raccolte russe prima non era avvenuto due mostre parallele dicevo nel sessantasette e nel catalogo che accompagna l'esposizione alla sua maniera di nuovo mi vienderà da dire quale spazio si ritaglia ci parla di raguagli quarendiani non ci vuole raccontare di nuovo il classicismo severo secondo la definizione russa di quel decennio oppure il passaggio verso lo stile impero no ci racconta di lui Giacomo il suo rapporto con la città le sue due carriere la carriera a Roma e poi la carriera in Russia ci racconta di nuovo l'uomo le sue vicissitudini la sua grandezza perché non ci parla mai della sua miseria perché la miseria non la vede perché miseria non ce l'è è capace di vedere nell'esperienza dell'uomo anche nelle sue difficoltà esattamente quello che va a costruire un percorso che non ha cesure e quindi questo è il contributo che dentro a questo volume ci reca e ce lo reca di nuovo e qui riprendo quanto accennavo sapendo che quello sarebbe stato uno dei capitoli di questo volume electa che sarebbe arrivato con più facilità al lettore non specialista era forse quasi da leggere prima rispetto agli approfondimenti che poi sono stati recati rispetto al disegnatore vedutista o all'architetto questo è lo spazio che lui ha deciso di tenere per sé andrei alla prossima per dire che qui ho avuto il piacere di condividere con lui sempre nell'occasione delle celebrazioni del 1994 per la biblioteca civica di Bergamo un utile strumento e lì proprio ci siamo intesi perché tutte e due lo intendevamo in questo modo non voglio tenere la lunga però sintetizzare nel corso dell'ottocento il figlio di Giacomo Giulio morto il padre rientra dalla Russia con uno sterminato patrimonio grafico e inizia nel 1821 a pubblicare un volume delle architetture paterne cosa che era d'abitudine per grandi dell'architettura riprendendo una tradizione che era stata della grande tradizione illuministica del settecento 1721 pubblica un volume fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi e poi naturalmente come capitava allora il titolo si prolunga nell'occasione del primo centenario della nascita del padre stampa presso gli stessi presso gli editori Mantovani Negretti un secondo volume con molte più architetture sono dei volumi in foglio di splendida qualità con grandi tavole incise naturalmente riservate a un pubblico come posso dire di collezionisti facoltosi per poterli possedere o frequentatori di biblioteca per poterli consultare allora si pensò di farne un'edizione anastatica ma in formato ridotto cioè nel formato di Bergamo avendo verificato con un paio di piccole prove di stampa che comunque le immagini continuavano a risultare assolutamente fruibili ecco a questo volume Vanni per questo volume preparò un'introduzione come già dicevo a proposito di quell'appendice al volume di Milica Corsionova sulle architetture di Giacomo Quarenghi a Bergamo è di una cristallina limpidezza cioè gli scritti teorici o d'architettura di Giacomo Quarenghi che siano stati pubblicati che si possano reperire come stralci all'interno delle lettere oppure semplicemente che le fonti le lettere ci dicessero che aveva in mente di realizzarli e qui di nuovo in maniera assolutamente e perfettamente sintetica e esatta ci parla e ci conclude questa argomentazione passerei alla prossima perché avendo parlato del 1994 succede che poi a un certo punto i centenari hanno una fine un termine si chiude il centenario passato lo santo finito si pensò allora chi fu coinvolto in quelle iniziative di dare una maggiore continuità come già auspicava poi anche qui nell'incontro in Ateneo Valle Zanella di dare una continuità che non fosse necessariamente legata connessa solo a ricorrenze centenarie o di altri allora capitò che quelli che vedete raffigurati in questa immagine nel 1995 e coinvolti naturalmente nelle iniziative del 94 ritenessero di dare vita a un'associazione chiamata nome scelto da Vanni e condiviso degli altri ovviamente osservatorio Quarenghi che appunto nel 1995 fu fondato da Sandro Angelini Gianni Mezzanotte Vanni Zanella e chi vi parla vedete i fondatori in questa fotografia fatta nel luglio del 93 eravamo a Pietro Bungo proprio per i lavori preparatori sotto la colonna Alessandrina sulla piazza del palazzo proprio per i lavori preparatori per l'esposizione del 94 di questa associazione di cui fu fondatore Vanni Zanella fu poi membro del direttivo fino al 2005 il primo esito in qualche modo pubblico editoriale scientifico del gruppo di lavoro che si era riunito intorno all'osservatorio Quarenghi fu lo studio e la conseguente pubblicazione del catalogo completo della raccolta di disegni di Giacomo Quarenghi che si trova al castello Sforzesco di Milano è una raccolta sono più di 200 disegni estremamente interessanti ma questo è irrilevante ma la cosa più importante è che questo gruppo di disegni era proprio stato scoperto da Vanni Zanella prima era ignorato agli studi tant'è vero che non era stato rintracciato nell'occasione della mostra del 1967 Vanni si accorse dell'esistenza presso la raccolta Bertallerelli allora oggi sono al gabinetto di disegni di questi disegni un poco di tempo dopo e ne diede notizia in arte lombarda nel 1979 tornammo quindi dopo aver lavorato insieme per l'occasione del 94 a studiare quel fondo che pubblicammo in questo volume e per il quale Vanni lavorò con Gianni Mezzanotte nel saggio che inquadra tutto il significato che viene raccontato dal fondo dei disegni d'architettura altra parte del fondo è costituita da disegni di veduta o di paesaggio o da capricci ma mi piace sottolineare che un ruolo fondamentale in questa opera di studio in questo volume lebbe Graziella Colmuto che fu autrice di un numero grandissimo delle schede di catalogo del fondo di architettura quindi questo forse è la prima volta che li vediamo collaborare insieme con con questo ciascuno ridagliandosi un proprio differenziato ruolo ciascuno con un enorme impegno possiamo andare avanti perché sto avviandomi alla fine nel 2008 qui in Ateneo la cosa nasce nel 2007 lanciamo un'iniziativa che chiamiamo delle liaison fructueuse in cui andiamo a sondare il rapporto non dico che utilizziamo Giacomo Quarenghi come un pretesto ma provando ad andare a sondare il suo rapporto con la cultura musicale sotto ogni sfumatura teatrale nel senso proprio della musica e così via dei personaggi coinvolti e così via andare a sondare quali erano i rapporti che egli aveva intessuto con questo universo della musica con cui lui appassionato di musica aveva convissuto per tutta la sua vita nell'occasione di questo percorso così molto articolato e sfaccettato di iniziative che si tennero Vanni con Bruno Cassinelli organizzò nel fiostro di Santa Marta una travolgente vorrei dire dalla capacità di comunicazione fortissima un'esposizione che ci raccontava questo suo percorso di vita di cultura ed arte e nel contempo all'interno degli atti dove naturalmente anche Graziella lavorò facciamo una cosa insieme su Giacomo Quarenghi scenografo è stata una cosa di lavorazione splendida portò una bella approfondimento dei rapporti sulla figura di Alessandro Barca docente di architettura all'università figura poliedrica anche questa come proprio dei tempi docente di architettura alla neonata scuola d'architettura dell'università di Pavia e autore di un saggio sulle proporzioni sul bello che viene dedicato proprio a Quarenghi ma questa foto che vi propongo è per continuare a seguire riprendere un attimo il filo delle lettere ne ho parlato già prima ma questo fiume carsico della passione per le lettere aveva già avuto l'occasione di un altro paio di risorgire ad esempio aveva pubblicato aveva ritrovato un gruppo notevole una quarantina di lettere in un fondo che viene a pubblicare nella rivista dell'istituto di archeologia e storia dell'arte di Roma di nuovo un piccolo tassello che però di nuovo accende un nuovo faro preciso una serie di cose apre delle delle direzioni di ricerca che prima proprio non erano stato non era possibile sondare e anche in altre circostanze questo avviene ma la continua frequentazione di Pietroburgo qui vedete Vanni con Graziella e in mezzo Milizacorci una di cui vi ho fatto cenno specialista di Giacomo Quarenghi al Museo dell'Ermitage ecco in queste frequentazioni si sta preparando una nuova una nuova una nuova opera una nuova uscita attraverso gli amici Pietroburghesi riesce a prendere visione a fare le trascrizioni a vedere le fotografie del fondo di lettere di Giacomo Quarenghi e a Giacomo Quarenghi che si trovano alla Biblioteca Nazionale di Russia di San Pietroburgo e qui prende avvio quello che è loro ultimo lavoro insieme questo volume editato pubblicato nel 2017 nel 2017 ricorrevano i 200 anni dalla scomparsa di Quarenghi ci fu un comitato internazionale che produsse una vasta articolata serie di manifestazioni con il centro studi Valleimania Graziella e Vanni pubblicarono questo volume che di nuovo viene a aprire nuove finestre un lavoro estremamente faticoso scambiando con loro anziani in quel periodo era facile percepire come queste lettere recassero a volte dei segnali tenui che costringevano un grande lavoro per andare a capire chi era quel personaggio che magari era veramente un personaggio assolutamente secondario ma non volevano assolutamente rinunciare lasciare lì la cosa senza andare in fondo e allora tentare di seguire questi fili è stato veramente qualche cosa che li appassionava e li ha anche affaticati indubbiamente quando finalmente il volume vide la luce la soddisfazione fu grande e la presentazione che tenemmo alla biblioteca civica fu un'occasione di gioia commovente ecco lasciatemi dire era di fatto possiamo dirlo oggi è stata l'ultima occasione pubblica in cui li avremmo con noi a festeggiare questo questo è l'ultimo loro dono a noi che di queste cose abbiamo passione grazie bene ringrazio eh per Valeriano Angelini anche per questa occasione che ha creato e mi scuso per tutte le interruzioni e i problemi che ci sono stati ma anche questo fa parte del nostro modo di affrontare questi temi ma questa sera chiuderemo con un incontro che era isperato nel senso che io non non sapevo che sarebbe stato possibile ma invece si stanno spostando i nostri relatori perché arriva adesso qui presso di me l'architetto Franco Mazza e Franco Mazza tornando dopo il tema quarenghiano a Bergamo città è l'autore dei disegni perciò Franco se vuoi venire qui è l'autore dei disegni della guida della guida Bergamo città e è qui a raccontarci la sua esperienza il suo essere stato lo sediamo davanti ma ti ringrazio comunque di essere con noi e sei una testimonianza ulteriore e soprattutto molto diretta rispetto alla nascita di questo volume che stiamo ricordando sì è veramente è veramente una sorpresa è stata quando ho saputo che c'era questa 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 riscoperta di questo Bergamo città perché sono passati 50 anni però sia allora che andandolo a rivedere oggi perché questa è stata anche l'occasione per andarlo a riprendere nella biblioteca del mio studio e riguardarlo mi sono reso conto anche che questa guida è una guida assolutamente innovativa nel senso che supera quelle che erano le caratteristiche delle guide fino a quell'epoca ma anche di molte guide di oggi cioè quelle di riferirsi soltanto alle parti monumentali più importanti più da cartolina più che fanno scena questa guida invece è una guida che conduce il turista o soprattutto il cittadino bergamasco lo conduce a piedi a fare un giro per la città scoprendo la molteplicità delle presenze di queste cose che alternano monumenti fondamentali assolutamente eccezionali anche a livello italiano potremmo dire per certi versi europeo tipo Piazza Vecchia tipo Santa Maria Maggiore tipo queste cose che tutti noi conosciamo ma che però segnala anche tutta una serie di presenze che sono presenze assolutamente diciamo importanti e che contribuiscono a rendere la città un insieme che si si è andato costruendo nella storia ma che diventa assolutamente fondamentale perché gli edifici monumentali quelli che si vedono nelle cartoline se fossero da soli e non fossero in un contesto di edifici spesso nello stesso periodo ma anche edifici che si sono aggiunti e che si sono per per concludere questa dimensione ambientale sono sono cose che costituiscono il valore di un centro storico il valore di una città e questo credo che sia una cosa importante perché non tante guide si occupano della passeggiata lungo via Pignolo lungo via 20 settembre lungo eccetera seconda cosa che volevo segnalare è il fatto che mentre molte guide di allora ma anche ma anche poi dopo si sono riferite alla città alta per dire e basta questa guida Fanni Zanella ha avuto la percezione geniale dell'andare dell'andare a occuparsi di tutta la città quindi anche il titolo Bergamo città vuole anche dire questo oltre a quello che è stato detto da da Labà e che cioè lui voleva che si allargasse la visione di una guida turistica non allargandosi alla dimensione dei grandi monumenti ma che andasse a catturare tutta la complessità e la bellezza di un insieme di presenze fatte di edifici di epoche diverse ma che alla fine formano questa dimensione urbana quindi questo discorso per esempio i disegni di questi percorsi lungo le strade lungo i borghi sono cose secondo me guardando altre guide assolutamente innovative nella guida di Vanni Zanella e in un certo senso io che ho fatto questi disegni che sono inseriti in questa guida e Pepi Merisio che ha fotografato che ha fatto quel gruppo di fotografie di Città Alta che sono che sono nel nel volume seguono questo ragionamento perché c'è stata una non abbiamo lavorato in maniera autonoma dove Vanni diceva preparami dieci disegni e poi ci vedremo tra 15 giorni no ci vedevamo molto spesso e abbiamo fatto molti ragionamenti su questo allargamento della visione alla città intera e quindi dicevo i miei disegni per esempio seguono il filo di questo discorso cioè del mostrare la molteplicità della città perché se voi guardate questi disegni sono disegni nei quali c'è la vita nel senso che si vedono i motocarri che attraversano che attraversano il Porta Nuova si vedono si vede il traffico si vedono le persone che camminano sul sentierone eccetera ma contemporaneamente si vede che non ho mai voluto disegnare dei monumenti singoli come protagonisti assoluti di una scena ma ho sempre voluto inserire i monumenti che sono presenti nel loro contesto in modo che ad un certo punto si cogliesse questa questa pluralità questa molteplicità di suggerimenti che danno le presenze degli edifici mescolandosi fra edifici non non diciamo anonimi ma edifici semplici edifici che non hanno particolare rilevanza monumentale assieme a momenti di di elevatissimo valore che sono le presenze monumentali queste presenze monumentali che non possono stare da sole ma che devono essere inserite in un contesto lo stesso discorso Pepe Merisio l'ha fatto con le fotografie segnalando anche lui non ci sono mai fotografie di monumenti presi come prima donna ci sono sempre aspetti come dire che contestualizzano l'ambiente di città alta per esempio spessissimo vengono evidenziate le pavimentazioni le pavimentazioni nelle fotografie di Pepe Merisio sono un aspetto assolutamente fondamentale perché e nello stesso tempo non è soltanto una sua mania un po' stramba ma è un invito a guardare con alla complessità della presenza dei caratteri della della città che sono composti anche da tutta una serie di potremmo definire dettagli ma che non lo sono ma che rappresentano diciamo la lingua che connette tutte le varie emergenze assolute che sono quelle dei monumenti quindi questa guida che io ritengo assolutamente anticipativa nell'occuparsi non solo degli edifici che vengono rappresentati nelle cartoline come spesso ancora oggi si vede nelle guide ma nell'anticipare questa dimensione plurima questa dimensione allargata questa dimensione che mette insieme la città come un organismo fatto di tanti particolari di tante presenze che però a volte sono eccezionali ma non sono le uniche e tutto il resto del tessuto che circonda i monumenti è un qualcosa di assolutamente indispensabile per la diciamo per la lettura e soprattutto per la comprensione di quello che è stato il movimento della storia nel formare la città quindi i miei disegni e le foto di Pepe Merisio in una connessione di concetti di idee di ragionamenti che abbiamo fatto per diverso tempo con Vanni Zanella alla fine conducono a una a un'opera che è connessa sia nella parte scritta che nella parte iconografica e fotografica quindi io dico ho riscoperto anch'io questo libro dopo averlo averlo aver partecipato alla sua stesura e questo modo di rappresentare il panorama urbano mi ha fatto pensare a tante cose e nello stesso tempo mi ha fatto pensare a come si sarebbe evoluta diciamo la percezione della città negli anni successivi quando si sarebbe capito che la città non è un insieme di punti di punti stellari di monumenti ma è un insieme di presenze umane come la nostra la nostra società se uno immagina per esempio una delle tante fotografie che ci fanno vedere per esempio di città tipo New York tutti quelli tutti i passanti che vengono fotografati in queste fotografie non sono tutti belli attori di Hollywood ce ne sono di simpatici di belli di brutti di così così e questa molteplicità è anche nelle mura delle città che sono fatte di una molteplicità che però è una molteplicità che forma un insieme forma una struttura forma una potremmo dire forma un corpo dove dove ogni ogni parte ha la sua presenza e la sua utilità tutta da leggere tutta da scoprire vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto molto cordialmente visto che avete scoperto questo libro che come dico è un qualcosa che ha una sua attualità oggi che andrebbe forse ristampato magari dandogli una guardatina su qualche dettaglio che nel frattempo è cambiato ma sostanzialmente trovo che abbia ancora una forte validità grazie grazie anche a Franco per averci dato questa sua testimonianza abbiamo fatto tardi però a me tocca oltre che ringraziare chi ha partecipato e ha partecipato in tutti i sensi a me tocca anche dire una cosa che per l'Ateneo è molto importante negli ultimi anni proprio Grazielle e Vanni hanno dato all'Ateneo alcuni documenti e soprattutto dei loro appunti su un tema a cui tenevano moltissimo e che avrebbero voluto sviluppare cioè quello della città del lavoro la città dismessa e quindi questi loro appunti che avevano poi concretizzato soprattutto Vanni aveva concretizzato in una rappresentazione molto sintetica che aveva preso il volto di una grande carta che si può interrogare questi appunti sono davvero lo stimolo e speriamo che l'Ateneo riesca a portare a termine le loro ricerche lo stimolo per raccontare davvero un'altra parte della città la città fuori dalle mura ma anche la città ormai nascosta i cui segni però sono ancora percepibili visibili e che hanno condizionato anche la crescita della città successiva quindi ci toccano questi compiti speriamo di riuscire a portarli avanti sono contenta che si sia creata la possibilità di fare questo ricordo che è come tutti voi avete sostenuto un invito a ripensare non solamente sul piano sentimentale o della memoria a ripensare le visioni di un personaggio come Vanni Zanella e vi ringrazio tutti ci sono molte chat che adesso non so c'è qualcuno che manda qualche cosa però io non riesco a vederle tutte ve le segnalerò quando le avrò lette comunque vi ringrazio ringrazio anche coloro che hanno partecipato con le chat ringrazio quelli che sono stati presenti con noi e ci sentiamo la prossima volta grazie 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 grazie